Ciao a tutti e benvenuti su Magisoplotus. Prima di iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo come sempre che potete iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se vi va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Vi ricordo anche che potete supportare il nostro progetto facendo un abbonamento su YouTube a partire da 0,99 centesimi al mese oppure su Twitch con Amazon PreVideo l'avete gratuito. Grazie a tutti quelli che lo fanno. Se lo fate su YouTube avrete accesso ad alcuni video in anteprima rispetto a tutti gli altri, quindi cerchiamo di premiare chi ci supporta con un caffè al mese in maniera concreta, quindi potrete vedere magari video sugli Spike o sulle Top Investments prima di tutti gli altri. Allora, vi ricordo anche il nostro sponsor FantasyAstore.it, uno degli store online più forniti d'Italia, spedizione in 24-48 ore, codice sconto Lotus 5 per avere il 5% di sconto sui prodotti non scontati. C'è il set di Lord of the Rings dei Sinbox in offerta a 71€, è veramente un affare, quindi se volete acquistarlo fatelo, magari nelle note mettete consigliato da Megis of Lotus. Non potete utilizzare il codice sconto lì, ma potete scrivere consigliato da Megis of Lotus così Fantasia sa che avete comprato quell'oggetto grazie ai nostri video. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di Bloom Borrow Mazzi Commander, la Top Investments. Allora, ci ho messo un bel po' a fare, le carte non sono tante, però come sempre le carte che vengono stampate nei Mazzi Commander hanno un testo lungo, delle interazioni un po' complesse e non è facilissimo valutarle. Allora, lo sto facendo molto presto questa Top degli investimenti, siamo ancora nella settimana pre-release, quindi i prezzi sono variabili nel prossimo futuro, quindi potrebbero scendere ancora. Quindi il mio consiglio è, se una carta non mi comincio appieno, aspettate tranquillamente, è molto probabile che scenda nei prossimi giorni. Magari 5 scendone e una sale, purtroppo può capitare che anche una salga, ma è molto più difficile. Allora, partiamo con l'ottavo posto per Perth Protection. Allora, 6 mana, instant. Allora, c'ha un'abilità molto particolare, Gift an Extra Turn. Quindi voi potete dare un turno extra a un vostro avversario quando giocate questa carta. Creiamo 4 2-2 volanti e quindi già è un effetto abbastanza forte. Stiamo parlando di una carta instant, quindi possiamo fare alla fine del turno di un nostro avversario o sulla combat e creiamo 4 2-2 volare. Se abbiamo promesso il dono, quindi il turno extra al nostro opponent, tutti i permanenti che controlliamo fasano out. Fasare out è una delle abilità più forti di Magic, perché non esce dal gioco, quindi tutti gli incantacreature, equipaggiamenti, segnalini, rimangono tutti sui vostri permanenti, ma vengono protetti. Quindi se c'è una vratta, se c'è una removal, non succede niente. In più, fino al nostro prossimo turno, i nostri punti di vita non possono cambiare e noi prendiamo protezione da tutto. Quindi, come vedete, praticamente noi diamo un turno extra a un nostro compagno, ma facciamo tutti questi effetti positivi qua, che sono veramente tanta roba. Col turno extra, quel giocatore, è vero che sarà più forte, per me molto probabilmente sarà anche quello più attaccato poi nei turni successivi, perché ovviamente ha avuto un turno in più. Lui potrà attaccare in quel turno extra gli altri due avversari che non siete voi. Quindi, ragazzi, mi sembra veramente una carta ottima, ottima, ottima. Più la leggo e più in realtà penso che avrei dovuto metterla più in alto nella Top Investments. Quindi, valutatela un po' di più. Rootcast, settimo posto per Rootcast Apprensity. Apprensity... Allora, niente, non riesco a parlare. Vabbè, Rootcast, dai, vai. Quattro mana Sorcery. Scegliamo tre di queste abilità e possiamo scegliere la stessa modalità. You make the same mod more than once. Ok, perfetto. La voletta giusta però controllo per non dire cavolati. E possiamo scegliere la stessa abilità più volte, più di una volta. Allora, mettiamo due segnalini su una creatura, queste Sorcery. Oppure creiamo una copia che è una copia di un token che controlliamo. Quindi, in un MADS token, se abbiamo dei token decenti, possiamo creare tre copie di quel token. E non è male. Ovviamente, ragazzi, se poi il token non c'è più, perdete il target. Quindi, per esempio, fare tre volte lo stesso token o a X-proof indistruttibile, eccetera. Oppure è veramente difficile, perché se muore non fate niente. Un giocatore crea un 1 e questo è un effetto un po' scarsino. Oppure un opponent sacrifica un non-token artifact. Allora, gli artefatti non-token sono presenti nel formato. Sono tanto presenti in multiplayer. E ricordiamoci che questa è una carta che va ad interagire bene contro The War Ring. Perché The War Ring è indistruttibile e questa lo fa sacrificare. Il prezzo per adesso è 1,56. Mi aspetto che scenda ancora un po'. Non ho particolari dubbi. Però, secondo me, il fatto di poter mettere due segnalini, uno più uno, su una creatura. E sappiamo tutte le carte che dicono quando metti un segnalino raddoppia, li metti ne uno in più, proliferi, bla 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 bla. Quindi, targettare tre creature, mettere due segnalini su ognuna, che poi diventano di più, è un effetto forte per quattro mana. Gli altri due effetti, crea una coppia e mettere un 1, hanno dei lati negativi. E poi sacrifica un artefatto non-token. E' molto probabile che ci sia qualche target che volete far sacrificare. Potete anche scegliere tre artefatti sulla stessa persona e fargli il triplo sacchino sugli artefatti, per dire. Comunque una carta che ha potenziale. Sesta posizione per Fisher's Talent. Ecco, questo è un nome un po' più semplice. Quattro mana, un blu, un verde e due incolori. E dice, all'inizio del nostro upkeep, guardiamo la prima carta del nostro grimorio. Possiamo rivelarla se è una terra. In quel caso creiamo un 1,1, se l'abbiamo rivelato in questo modo. E peschiamo una carta. Allora, a me piace tanto questa carta. Perché di base ci fa pescare una carta in più, all'inizio di ogni turno. Quindi per quattro mana ci sta. Se invece riveliamo una terra, quindi se in cima abbiamo una terra, mettiamo anche un 1,1 extra Fish. E qua triggerano le prossime abilità. Due mana per andare a livello 2, quindi poco. Se creiamo un Fish token, creiamo invece uno Shark 3,3. Quindi il primo effetto, quello di creare l'1,1, diventa subito un, crea un 3,3. Ed è già un po' meglio. Ma andiamo a vedere l'ultimo effetto in livello 3, che è veramente carino. Quando creiamo uno Shark, creiamo invece un 8,8. A parte andare in combo con Shark Typhoon, che crea Shark token, quindi creiamo solo 8,8. Però questo è più uno scherzo, perché comunque è difficile averle entrambe in campo assieme. Però è una carta che l'effetto non è male. L'effetto di base già non è male. Gli altri due effetti portano tanto valore al primo effetto. Quindi quando anche ci sarà una terra in cima, creiamo un 8,8, un 3,3 e va bene. Il prezzo è veramente basso, è nullo. Però secondo me in alcuni deck blu-verdi col tempo si potrà apprezzare un po' di più. Quinta posizione per Fortune Teller's Talent. Un mana blu, sempre una saga. Una classe in questo caso. Scusatemi, una classe, non una saga. Sono simili ma diverse. La saga va da sola, qua invece dobbiamo pagare. Allora, un mana blu. Possiamo guardare la prima carta del Grimorio in qualsiasi momento. Allora, questo è un effetto che non è che sia particolarmente forte in Commander. Però ha delle sinergie. Per esempio la prima con le fetch. Noi possiamo sempre guardare la prima. Quindi se abbiamo una carta che ci serve, magari non fecciamo in quel momento. Ovviamente se possiamo. Se invece c'è una carta scarsa, fecciamo più volentieri. Quindi questo è uno dei lati positivi di questa abilità. Ma le abilità forti sono le altre. Quattro mana diventa, fin tanto che abbiamo giocato una spell nel nostro turno, possiamo giocare carte dalla cima del Grimorio. Ecco, questo è un effetto forte. Perché ci permette di giocare sia le terre che le spell. Perché dice play e non cast. Quindi ci permette appunto di... C'è una terra, la giochiamo. C'è una spell, la giochiamo. C'è un'altra spell, la giochiamo. Tappiamo tre. Per fare il livello tre. Le spell giocate da qualsiasi zona che non sono la mano costano due colorless in meno. E questo è un effetto forte. Perché due colorless in meno è veramente tanto. Pensate in un mazzo idre. In un mazzo mucche giganti. Cioè noi castiamo dalla cima e le paghiamo pure due in meno. Quindi cazzo, è veramente molto molto più facile giocarle. Il prezzo per adesso è sull'euro. Eccolo qua. Sull'eurino. E anche questa credo che scenderà ancora. Perché comunque devono essere aperti ancora tanti mazzi. Però è una carta che ha un bel potenziale. Allora, dovrebbe essere la quarta posizione per Jacked Rabbit. Allora, uno, due, tre, quattro. Sì, quarta posizione per Jacked Rabbit. Questo fantastico coniglio, guerriero. A costo due più X. A Ravenous, quindi questa creatura entra con X segnalini più o più uno. Se X è cinque o più, peschiamo anche una carta. Quindi, non è male. Diventa grosso, ci fa pescare bla bla. Classica abilità Ravenous che già esisteva. Quando attacca, crea altrettanti uno, uno, pare al suo power. Quindi, se voi la fate di secondo, che ovviamente è brutta o con due mana. Quando attacca, crea un uno, uno, token. Che non è attaccante. Qua, in realtà, per certi versi è positivo. Perché altrimenti si va a schiantare troppo facilmente. No, è solo uno, uno. Va in combo con tutti gli effetti che raddoppiano i token, con tutti gli effetti che mettono più segnalini, pompaggi vari. È una carta che entrerà in tanti deck commander. Quindi, per quello che l'ho messa fra le top investments. Perché la sua versatilità in diversi mazzi commander, molto probabilmente la renderà una carta giocabile. Ovviamente, se pagate 5 mana, entra come 3-4. Perché la pagate 2 più 3 per x. Entra come 3-4 e quindi ogni volta che attacca fa 3-1-1. Quindi l'effetto è oggettivamente forte. La carta in sé mi piace molto. Allora, terza posizione per Steelboard Champion. Una delle carte che mi intreppano di più, di questi mazzi commander. E che ha un prezzo anche basso per adesso. È 0,82. Richiama una carta che già esisteva, però ha un effetto un po' diverso. La carta che richiama è il Taurian Mauler. Che è un 1-1 a costo 3 o 2-2 a costo 3. Con changeling, quindi di tutti i tipi di creatura. E dice, quando un opponent gioca una magia, prende un segnalino più 1-1. Qua abbiamo una creatura un po' diversa. È un 1-1 a costo 3 vigilance. Quando un opponent gioca una magia non creatura. Quindi non una qualsiasi magia, ma deve essere non creatura. Gli mettiamo un segnalino. Ma anche una delle abilità dell'espansione, che è Offspring 2 mana. Quindi, cosa vuol dire? Con noi, con 5 mana, creiamo 2-1-1 vigilance. Che ogni non creatura giocata dagli opponent prende un segnalino. Anche qui, stessa cosa per la creatura di prima. Tutti i mazzi che proliferano, mettono segnalini aggiuntivi, eccetera. È una carta bella. Un drop a 3. Che gli avversari devono togliere. Perché comunque, ragazzi, tra tutti gli artefatti che danno mana. Le non creature più forti di command... Cioè, ogni giro di commander multi, questa creatura prende dei segnalini. Può essere 2-3, può essere 5-6. Però li prende. È praticamente sicuro. È quasi impossibile che si faccia un giro in 4 di commander multi e non prenda neanche un segnalino. E se ve la fate con offspring, avete questo effetto raddoppiato. Quindi avete due creature che continuano a diventare giganti e non necessitano di altri costi. Rimangono lì, diventano grosse, hanno vigilance pure. Quindi, pochi lati negativi. Costo basso, come soldi. Quindi, carta che mi piace. Mi piace molto. Prossima carta, Scurry of Squirrels. Questa è veramente una creatura forte. 2-2 a costo 3. A myriad, myriad. Cosa vuol dire questo? Quando questa creatura attacca, per ogni opponent, oltre a quello che stiamo attaccando, creiamo una copia che è una copia di questa creatura attaccante che attacca quel player o quel placewalker. Poi lo rifacciamo un'altra volta. Poi le esiliamo questi token alla fine del turn. Allora. Noi attacchiamo con lo Squirrels. Attacchiamo il giocatore. Noi siamo il giocatore A. Attacchiamo il giocatore B. Mettiamo una copia che attacca il giocatore C e il giocatore D. Poi mettiamo una copia che attacca il giocatore C e il giocatore D. Quindi abbiamo creato 4 copie in un turno. 4 token in un turno. Se noi abbiamo in campo Dublin Season, che dice, se un effetto vi fa creare un token, sotto vostro controllo create il doppio di quei token. Quindi voi create 8 token. Ok? Cioè, basta avere Dublin Season e attaccare con lo Scary. Quindi 8 token, ragazzi. 8 cazzo di token. Cosa dice poi la seconda abilità? Perché non è finita qua. Fate conto che Myriad è un'abilità fortissima in multiplayer. Quando fa danno, quando lui fa danno a un player, mette un segnalino più 1 più 1 su una creatura che controlli. E questa abilità ce l'hanno anche le copie. Quindi voi pensate il disastro che può fare questo Squirrels. Con Dublin Season voi create, voi attaccate con 9 Scary. E se tutti fanno danno a un player, mettete 9 segnalini sull'originale, perché gli altri tanto moriranno. Oppure su altre creature che avete. E se avete Dublin Season, raddoppiate anche i segnalini. Perché dice, se vengono messi segnalini, uno o più segnalini, su un permanente che controlli, li raddoppi. Quindi pensate, e ci sono altre carte simili a Dublin Season. Pensate quanto cazzo è forte Scurry of Squirrels. E non è uno Squirrel che va giocato solo nell'archetipo tribale Squirrels. È una carta che verrà giocata in tantissimi altri deck. Ripeto, Myriad è un'abilità fortissima in multiplayer. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Rullo dei Tamburi, number one è Agath Instigator. Due mana, uno tre, Offspring due. Un'abilità che amo, ragazzi. Offspring l'adoro, ma adoro... Cioè questo set ha tantissime abilità che mi piacciono un sacco. Molto probabilmente la prossima settimana faremo una live, farò una live in cui giocherò ad Arena Bloom Borrow e faremo qualche Sealed così ci divertiamo assieme perché sembra divertente e non troppo complesso come il passato. Quindi forse riuscirò a portarvi anche magari l'Arena Open o qualche torneo spicy su Arena Limited di questa espansione. Comunque, torniamo a noi. Agath Instigator. Due mana, uno tre. Offspring due. Quando un'altra creatura entra in gioco sotto lo suo controllo facciamo un danno a tutti gli opponent. Ragazzi, carta semplicissima, carta forte. Cosa ci ricorda questa carta? Eccola qua. Impact Tremor. Quindi tutti i mazzi Purphoros, mazzi di quel tipo che riescono a spombare facendo Infinity Token. ci dà la possibilità di vincere mettendo infinite creature. Ammazza tutti gli opponent assieme e anche se non abbiamo vinto, se non abbiamo una combo infinita, il fatto che abbia Offspring ci mette nella situazione che ogni creatura che creiamo, ogni token, ogni creatura che entra sotto lo suo controllo fa due danni. E due danni per ogni creatura, tutti gli opponent, cazzo ragazzi, è tanta roba. Carta che è veramente forte in Commander... scusatemi, nel pre-release to the Giant, perché fa due danni, ogni trigger fa due danni a ogni opponent. Quindi se fate Offspring ed entra una creatura, fate quattro danni a ogni... ai vostri avversari. Quindi carta fortissima. Comunque, tornando a noi, è una carta che sta sui quattro euro. Allora, questa è possibile che salga e che non scenda. Quindi se ci credete, investite ora. Non aspettate troppo, perché è una carta che, ripeto, sappiamo che se usculti una Staples e questa sarà una Staples, non ci sono tanti dubbi. Quindi è possibile che salga, quindi fate molta attenzione. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo fantastico video. Spero vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrittevi al canale, commentate se va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi! Ciao!